Il grande attore Il grande attore Il presidente del consesso, professor Montanari, sottolinea l'urgenza di nuove soluzioni tecniche, le quali tengano presente anche l'aspetto economico della produzione. Il grande attore Il governatore del Missouri organizza immediatamente le contromisure. Polizia, soldati e guardie nazionali daranno la caccia agli evasi. Ridurli alla resa è stata una battaglia in cui quattro guardiani hanno lasciato la vita, venti i feriti. I protagonisti narano con spavalda e citazione la loro impresa, che è la più grave rivolta carceraria verificatasi da oltre cent'anni a questa parte negli Stati Uniti. Contro le squalifiche della commissione appello e disciplina dell'Uvi, riunione di Coppi e degli altri corridori puniti per il cosiddetto sciopero del Bernina, in una delle ultime tappe del Giro d'Italia. Dopo Magni vediamo Fornara, ci sono tutti i principali imputati. Primo piano d'obbligo per il maggiore, Pausto Coppi, ma il reclamo risulterà vano, le squalifiche saranno mantenute.